Ciao ragazzi, volevo avvertirvi di una cosa fighissima per chi possiede l'Xbox 360 ed è abbonato al servizio Xbox Live Gold Magari qualcuno di voi l'ha già visto o sentito Comunque, all'E3 la Microsoft ha detto o parlato di una cosa molto figa Questa cosa è che regaleranno dei giochi per tutti gli abbonati Xbox Live Gold Visto che siamo stati lì a pagare e a sempre supportare la Microsoft Comunque, adesso di gratuito vi posso confermare che c'è Fable 3 e sarà disponibile per un periodo limitato Non so quando, non so se fino alla fine di questo mese o no Comunque, il gioco è disponibile dal 10 di questo mese e durerà fino a una data che non si sa Diversamente, gli altri giochi che darà in omaggio alla Microsoft partiranno dal 1 giugno E i primi due saranno Assassin's Creed 2 e Halo 3 Quindi volevo fare questo video per avvertire tutti gli abbonati Xbox Live Gold Che per caso non hanno ancora letto o non hanno seguito l'E3 Grazie a questo video spero di aver informato i poveretti che si sono persi questa notizia Volevo solo dire questo, è proprio un video delle palle da due minuti e basta Ciao e al prossimo video, ciao ragazzi